La gente all'inizio non ci credeva su questa squadra femminile e poi ho visto la mia città. La prima cosa che dico è che questa squadra non è mia, innanzitutto è la squadra che è della mia città, di tutti. Dopo la cavalcata magnifica della scorsa stagione sportiva che ha portato le ragazze del calcio a 5 femminile alla conquista della Coppa Italia e del primo scudetto nella sua storia, il Futsal Rosa Bitontino si sta preparando al nuovo inizio di campionato che ne vedrà freggiarsi del tricolore sulle proprie divise. Inutile nascondere che le ambizioni sono altissime sia nella squadra sia in città, città che molto spesso trova difficoltà nel dimostrare la propria vicinanza allo sport bitontino, ma che sicuramente sta cominciando a capire quanto sia importante la presenza sugli spaldi. Il 2 settembre scorso c'è stata la presentazione ufficiale della squadra e noi abbiamo intervistato il presidente Silvano Intini che non ha nascosto tutte le sue ambizioni. Quest'anno è un anno molto difficile perché essendo campioni d'Italia, anche di campioni abbiamo vinto uno scudetto, la gente giustamente pretende ancora di più. Abbiamo fatto un bel roster, abbiamo comprato due nuovi acquisti di cui Tampa e Grieco della Lazio, di far divertire la mia città, quella è la cosa principale. Abbiamo avuto un grande risultato vendendo degli abbonamenti e anche per la partita del 17, se abbiamo già venduto, lunedì aperto il botteghino, già siamo arrivati a 800 biglietti. Primo appuntamento ufficiale il 17 settembre prossimo al Palasport di Mona di Bari per la Supercoppa italiana contro il kick-off. È inutile dire che questa gara dovrà essere solo l'inizio di una stagione nero-verde, dove le leonesse del calcio a 5 avranno bisogno di tutto il nostro supporto. Grazie.